La mia città è una grado diijdica La mia città è una grado di giudizioni Chiedo scusa per il ritardo, signora? Nina Martini E questa bella bambina chi è? Caterina Già lei ha un contratto per una sostituzione stiva Però, se avrà lavorato bene a fine estate Non escludo che possa essere assunta Grazie Non sarà una gran cosa però Feri, tredicesima stipendio, la casa, la campagna Voglio solo riassestarmi un attimo Buongiorno signora Martini Il dottor Torri vorrebbe vederla domani Dopo che tu non essi ufficio Lei vuole vedermi? Nessuno ti obbliga Perché non me l'hai detto che era un figlio di puttana? Che se non scappavo mi si scopava No, no, è vero, se tu non vuoi lui non fa niente Alina, non l'hai detto come funzionano quale cosa la tua amica? Alina, c'è il direttore che la vuole vedere Mi riferiscono che lei va in giro a raccontare delle cose gravi sul mio conto Chi gliel'hai detto? Non hanno ragione loro, ho ragione io C'è questo del sindacato sulle molestie Una volta li chiamavano complimenti Perché Teresa è andata dal baratta all'improvviso? Il baratta bisogna starsi una zitta Perché Don Ferrelli non dici niente? E tu perché non dici niente? La verità bisognerà dimostrarla prima o poi al giudice E gli altri? Tutti con lei? Tutti a sostenerla? Non credo proprio Ma cosa ti è venuto in mente? Tu sei venuta qui a rovinarci le vite, oh? Quando ci è scappato tutto di mano? E denuncio quei maiali? Se non faccio niente, prendo senza neanche combattere Ma sta tranquillo, so quello che faccio In questo caso perché penso di farvi vincere Non sarà facile Ci vorrà tempo, lavoro e tanta forza Ma possiamo farcela